Grazie per tutti gli attestati di simpatia che mi state dimostrando, zio porco super incazzato. Volevo dirvi che Facebook quando uno arriva a 5.000 amicizie non gliene fa più accettare e neanche richiedere e dovrei fare un altro account e non ne ho voglia. Altra cosa, c'è la pagina Enzo Persuader, tipo Fans Club, una cosa di quelle da fighetti che personalmente non mi appartiene molto, però è l'unico modo per restare in contatto con me. Io vi voglio ringraziare di tutti questi attestati di simpatia e vorrei fare anche una petizione per piacere perché nelle località marittime, visto che arriva l'estate e adesso andremo tutti al mare, per piacere tirate via tutti quei risciò che sul lungomare strapassano i coglioni alla viabilità. Fategli un risciodromo, no? Gli fate un bel risciodromo così loro si divertono a fare le loro belle corsettine nel risciodromo e non vanno in giro sul lungomare a creare degli ingorghi stradali per colpa di questi risciò che uno si trova lì in colonna e non capisce che cos'è e poi alla fine quando arriva lì si trova il risciò, ok? Per piacere, il risciò cavateli via dai mezzi maroni sul lungomare, fateli delle piste apposta per loro ma non metteteli dove devono girare le macchine perché creano solo dei casini e sono anche pericolosi. E per quello che riguarda le amicizie, come vi ho detto precedentemente, vi dovete purtroppo solo prenderla con Facebook perché io ho 5.000 e non posso né accettarle né richiederle. C'è la pagina di Enzo Persuader e quindi vi ringrazio di cuore e vi auguro un buon weekend perché deve essere un bel weekend assolutamente. Zio Vigliac, ciao a tutti.